Sabato tornerà nello stadio dei suoi sogni, sto parlando di San Siro, Riccardo Saponara in cerca di revincite, guardate. Buona per me. Benvenuti alla seconda puntata di Italian... no, di Total Italian Futuro. Posso mettere gli occhiali? Provaci, provaci, dai. E' un po' Ma tu chi sei? Ma cosa vuoi da noi? Questa la cancelliamo? No, no, queste sono belle. Ma quelle con le rughe? Quella con la rughe va bene. Tutto bene? Dai, bravo! Alla grande, cioè... C'erano senza nulla. Anche come il tuo nome mi serve a dire... No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! E' toto. Ma... Ah perché ha dei fatti di questo tipo di vista? No, la faccio! Ma la faccio! Ma la faccio! Vabbè Riccardo, il mister si sta comportando alla grande, si sta dando il suo contributo, soprattutto per la sua bellezza, il suo estro e la sua grandezza. Ancora più bello, mi sto emozionando. Ancora più bello. Ah vabbè è un'altra razza. Sono le mie domande, cosa vuoi tu? Amiche, aspetta. E' salito da bionco? No, no, tu sei questo. Ciao, un tazzetto. A me è un po' che ha specificato, hai detto l'intervista. Ma ora c'è... Aspetta, ma mentre fanno l'intervista, gli posso andare da te a vedere da fare. Scusa. Poi hai d'accordo di tre costumente, poi hai d'accordo di una fine, ragazzo non male. Alcuni si trolla un po' da meno. Che non è male. Scusa. Eh no, io quest'anno credo. Scusa. Dopo questo. Guarda un po' qua. Scusa. 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 Scusa.